In questa video guida parliamo di drenanti forti. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Un drenante, come si può intuire dal suo stesso nome, è una sostanza che aiuta il corpo a drenare liquidi in eccesso. Questo prodotto viene utilizzato in maniera particolare da chi vuole combattere la ritenzione idrica. Esso, inoltre, aiuta a eliminare il gonfiore legato ai liquidi in eccesso e riduce la cellulite. I drenanti sono disponibili sul mercato in vari formati. I più diffusi sono il formato tisana, che ci permette di assumere il drenante attraverso una tisana ad infusione, il formato integratore, che contiene il drenante all'interno di una bevanda che fa anche da integratore alimentare, ed il formato crema, che va spalmato sul corpo. Grazie. 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 Grazie.